ciao a tutti la scorsa settimana ho fatto un video tutorial dove spiegavo come gestire le basi per i live e come poter impostare attraverso una semplice pedaliera midi con tre pulsanti la gestione dei marker ho ricevuto diverse diverse mail diverse richieste riguardo al settaggio dei controller a proposito quindi ho pensato di fare un compendio del video della scorsa settimana spiegandovi come impostare il controller per la gestione dei marker e per la gestione del play stop e per farlo ho deciso di utilizzare un controller sgrausissimo un controller da 20 euro usato che potete trovare sul mercatino musicale o su qualsiasi altro sito che vi permetta di comprare materiale senza dover fare un mutuo sulla casa allora andiamo a fare un mini progetto per la gestione delle basi andrò a inventarmi una simulazione quando prendermi un tot di apple loop facendo finta che siano le basi di un live immaginate che queste sono delle mie canzoni eccole qua adesso mi vado a fare come ho fatto vedere già la scorsa settimana le metto in sequenza ecco qua poi sposto ancora queste più in qua ecco quest'ultima togliamola che tanto ai fini dell'esercizio mi bastano queste la prima la possiamo togliere ed ecco qua comanda z adesso vado nella mia sezione dei marker tolgo tutto ciò che non mi interessa ovvero arrangiamento signature e tempo ingrandisco pure la finestra dei marker ho tutte le regioni selezionate quindi vado sulla scritta marker crea marker dalle regioni ed ecco che ho i marker relativi a al nome delle mie delle mie canzoni che utilizzerò dal vivo e vi ho fatto vedere la scorsa settimana che andando su key command edit io posso impostare scrivendo qua marker ho subito set locators by next marker and enable cycle ho set locators by previous marker and enable cycle adesso io qua li ho già segnati a qualcosa li vado a cancellare così che partiamo proprio da zero e io li ho impostati come shortcut con control option virgola e ho control option punto quindi control option punto mi va nel marker successivo e nel marker precedente con control option virgola ora io voglio assegnarlo un controller allora adesso ho collegato questo controller i cui driver sono aggiornati è un oxygen 8 per vedere se funziona il midi la prima cosa che devo fare è primer dei tasti e vedrò qua in alto un pallino illuminarsi perfetto se voglio vedere l'evento midi che sta funzionando vado qua modalità custom ed ecco che quando primo delle note vedrò proprio le note in utilizzo se muovo adesso sto muovendo il pitch band questo il mod will ed ecco che mi sta funzionando tutto correttamente se io voglio andare ancora più a fondo e vedere i dati midi posso scaricare un software gratuito molto utile che è il midi monitor è gratuito funziona molto bene e ad esempio mi permette di capire se ci sono dei problemi a livello midi magari c'è la tastiera che trasmette degli eventi non voluti in questo caso qua la tastiera sta facendo quello che deve fare ecco il modulation wheel muovo delle delle manopole a caso ed ecco che vedo proprio che la mia tastiera funziona bene e correttamente ora cosa faccio option cup io qua vado adesso a segnare tre pulsanti facendo finta che abbia una pedaliera midi per farlo vado ad assegnare nella mia tastiera delle note bassissime tipo il c-2 il d-2 quindi sono andato proprio ad agire su transpose e quindi vado a segnare delle ottave bassissime che a livello pianistico non suonerò mai e quindi assegnerò un next set locators by previous marker and enable cycle lo voglio assegnare al c-2 per farlo semplicemente vado su learn new assignment e premo il c-2 imparato adesso faccio set locators by next marker and enable cycle learn new assignment lo faccio sul d imparato anche questo adesso li vado a dire play e stop il mio secondo bottone il mio terzo bottone learn new assignment e facciamo ad esempio il mi-2 imparato adesso posso chiudere adesso semplicemente premendo nella mia tastiera le tasti ecco che vado nel next marker ecco che vado nel previous play e stop molto semplice grazie per avermi seguito buona giornata a tutti ciao grazie per avermi seguito